Un'indagine partita subito dopo l'omicidio di Fausto Di Marco avvenuto a Chietiscalo il 9 ottobre scorso. Il quarantenne è sgozzato al termine di una serata davanti a un locale. Dall'in poi gli uomini della questura di Chieti hanno intensificato le attività investigative inerenti la Movida e i locali notturni, fino a giungere all'arresto di un giovane pescarese di 33 anni, ancora incensurato, che in un appartamento di Montesilvano deteneva 45 kg di droghe tra marijuana, eroina e cocaina, destinata al mercato dell'area metropolitana Chieti-Pescara e che avrebbe fruttato 500 mila euro. L'omicidio di Marco è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulla criminalità nella nostra provincia e quindi abbiamo iniziato un'attività di prevenzione e soprattutto un'attività info-investigativa che ci ha consentito di conoscere, oltre allo stato della criminalità, anche alcune notizie che poi sono state negli ultimi tempi debitamente sviluppate. Sviluppando una di queste siamo riusciti a focalizzare l'attenzione su un'autovettura che procedeva dalla nostra provincia in direzione Pescara. L'abbiamo seguita fino alla limitro tra la provincia di Pescara e al confine tra Pescara e Montesilvano abbiamo visto scendere un giovane per il suo atteggiamento particolarmente nervoso abbiamo deciso di sottoporlo a una perquisizione. La prima perquisizione ha dato esito negativo. Abbiamo però trovato una chiave che conduceva un appartamento alla sua disponibilità e abbiamo trovato quel grosso quantitativo di stupefacente di vario genere tra marijuana, 40 kg, eroina brown sugar che si suppone anche che abbia un elevato grado di purezza di 4,5 kg, circa 5 kg e 132 grammi di cocaina. Una persona che probabilmente deteneva la sua stanza stupefacente ma è possibile che siano coinvolte anche altre persone. Adesso faremo tutte le indagini del caso ma comunque la persona arrestata non ha particolari pregiudizi. Un'attività, quella della questura di Chieti, che ha portato alla luce la nuova centralità dell'area dello Scalo in diretto contatto con quella di Pescara. Criminalmente la zona di Chieti-Scalo la possiamo collegare a San Buceto, a Pescara e a Montesilvano perché è un tutto unico, un unicum dal punto di vista criminale. C'è stato sicuramente negli ultimi anni con la costruzione del villaggio miniterraneo, lo spostamento di una facoltà universitaria, praticamente una concentrazione di studenti tutta sullo scalo e anche l'apertura di locali notturni ha prodotto un aumento di richiesta di sostanza stupefacente.